Amici di milan.soccer, eccoci con un nuovo appuntamento dedicato all'informazione rossonera. Ben ritrovati e benvenuti ai nuovi. Vi ricordo, come sempre, di iscrivervi qui sotto. Farlo è gratuito, c'è scritto iscriviti. Cliccate e attivate la campanella, così da rimanere sempre aggiornati. Tre, a volte quattro appuntamenti al giorno, tutti dedicati alle informazioni, alla storia del Milan. Insomma, vi raccontiamo il romanzo Milan. Vi ricordo anche di mettere un pollicione e di guardare sotto link in descrizione anche i link che ci sono per vedere cosa circonda questo nostro progetto. Dunque, un po' di amaro in bocca c'è. Perché? Perché? Come ci si pone dinanzi ad un europeo orfano di rossoneri. Parlo per la squadra per l'Italia. Per l'Italia. C'è stata una critica da parte di Ibrahimovic a Spalletti, il quale non ha convocato oggettivamente rossoneri. Non è che ci siano tutti questi italiani, lo sappiamo benissimo. Però, dice Ibrahimovic, Gabbia avrebbe meritato, dopo che è tornato dal prestito, è un altro giocatore, ha dimostrato tutta la sua grandezza e tutta la sua capacità, eccetera, eccetera. Non lo so. Di fatto, posso però dire che il pathos nel veder giocare l'Italia non c'è affatto. Io non riesco, ed è un limite tutto mio, al di là dell'amore per la patria, ma credo di poterlo dimostrare in contesti più importanti. Ma comunque, il calcio fa parte del nostro quotidiano. Però il pathos non c'è. Non riesco a tifare Barella, non riesco a tifare Di Marco, non riesco a tifare giocatori che quotidianamente guardo da nemico, nemico sportivo. Ci mancherebbe altro, è sempre un gioco. Però non riesco a tifarli. Vedremo quello che succederà. Non è facile nemmeno tifare la Francia, perché c'è Theo, c'è Menin, c'è Giroud, anche se non è più il nostro giocatore. A proposito però di Menin, di Theo Hernandez e anche di Leao, c'è stato un forte imbarazzo ad un certo punto. Io l'ho notato negli occhi dei dirigenti Furlani, Moncada, insomma, che erano seduti in prima fila. Ibraimovic era alla prima uscita, quindi di gaffne a fatte, si è dimostrato timido, anche se spavaldo al modo suo, ma timido. Però ad un certo punto è uscita una frase molto importante, molto forte. Ora la analizziamo bene, perché c'è anche un intervento di un autorevole penna che fa notare, sottolinea questo aspetto. Comunque, prima ancora, voglio vedere come il mercato si sta muovendo. Si sta muovendo come tutti i mercati, è ancora presto, si chiuderà tra molto tempo, quindi ne sentiremo ogni giorno. Cerchiamo di aggiornare per quello che è il trend, poi dopo ne discutiamo assieme, ma se ci sono notizie importanti, sapete, poi le diamo. Comunque trattiamo un po' tutti gli argomenti che diventano popolari. Purtroppo, per quanto riguarda il terzino destro, sono in calo le quotazioni di Matti Cash, che a me piace. Però piace nei limiti, sempre, come dico, della impossibilità d'ambire a nomi di pregio. Per cui, in quel contesto, potrebbe e potrebbe essere un giocatore interessante. Allora, Zirkesi no, Matti Cash, Matti Cash no, allora Fofanà. Anche Fofanà si è raffreddato, per cui a centrocampo c'è Wieser che è un'alternativa a Fofanà. Ci mancherebbe il Wieser del Feynrod, l'alternativa a Yosuf Fofanà del Monaco. Però, come posso dire, ho guardato anche il profilo di questo Wieser con la maglia del Feynrod. 29 presenze in campionato, 6 presenze in Champions League, 2 presenze in Europa League e poi altre presenze. Minuti in campo, 3.720, 6 gol, 6 ammunizioni su 42 presenze totali. Insomma, un giocatore che può essere, che rientra nella logica del mondo Redbird e di questo Milan. Perché sono giocatori che navigano in una dimensione né di top player né di bidone. Insomma, parliamo di giocatori medi. Però, detto questo, ritorno alla questione relativa a Ibrahimovic, alla conferenza stampa. Lui, ad un certo punto, ad una precisa domanda, ha risposto. Mignan, Teo Hernández e Leao, assolutamente non sono in vendita. Lì c'è stato un po' di imbarazzo. Io mi sono domandato, insomma, è un'uscita forte, forse se possiamo azzardare la più forte di tutta la conferenza stampa. Perché è vero che non possiamo comprare top player, ma se ne abbiamo, Mignan, Teo Hernández e Leao sono questo, beh, tenerli già è un punto di partenza importante. Solo che l'imbarazzo è, diciamo che anche un articolo di Padovan mi dà, come dire, questa idea che la sensazione fosse quella di una gaffe. Per cui lo stesso Padovan dice il Milan, o meglio, Ibrahimovic ha azzardato, dicendo che rimarranno. Io non ne sono convinto, perché poi l'eco di una conferenza stampa dura quello che dura, può durare qualche ora, i giornali domani già non ricorderanno più di questa conferenza stampa. Le promesse nel calcio sono tutte promesse che poi vengono puntualmente smentite. Io rimarrei molto cauto per quanto riguarda questi tre giocatori, perlomeno rispetto ad alcuni di loro. Perché comunque, dice Ibrahimovic, non abbiamo bisogno di vendere per poter fare campagna acquisti. Tutto quello che guadagniamo lo reinvestiamo sulla prima squadra, che è il nostro primo obiettivo. Belle parole, eh, belle parole. Però se investiamo così come stiamo dimostrando, io qualche dubbio ce l'ho. Quindi, ritornando alla questione dell'imbarazzo in casa Milan, questa può dirsi una gaffe. Quanto meno, diciamo che, sarà ripresa, e non solo da noi, laddove dovesse accadere poi che Gerry Cardinale, padre padrone, decide di vendere e di fare cassa, e poi quindi Ibrahimovic qui si è esposto moltissimo. Quindi, almeno ripartiamo da questo. È stata voluta la gaffa, cioè si è voluto esporre per dire o è così, oppure me ne vado, oppure è solo ingenuità. Oppure è vero. Ma io ho molti dubbi sul fatto che il Milan riesca a tenere a lungo questi tre giocatori, sia per quanto riguarda gli adeguamenti di stipendio, sia per quanto riguarda le proposte. Poi alla fine arriva una super proposta e dice come facevo a dire di no? Ecco, quindi andiamoci cauti su queste parole. Comunque, guardiamoci l'europeo, ognuno di voi mi scriva qui sotto, la squadra per cui intende fare tifo. Ci vediamo più tardi e buona giornata. Ciao.